Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale! Allora, prima di parlare di Sottosopra, che sono finalmente riuscito a recuperare e che conclude con questo numero 3 la sua breve storia editoriale da Edicola e quindi prima di darvi le mie impressioni un po' specifiche sull'albo in questione ma generali su questo piccolo ciclo di racconti volevo fare ancora, spendere due parole sul problema di distribuzione sembra che si batta sempre il chiodo su quella cosa però secondo me certe cose vanno denunciate quando succedono Allora, questo album, nello specifico, sarebbe dovuto uscire due o tre giorni fa l'ho trovato solo stamattina, l'edicolante mi ha detto che è stato consegnato oggi e tra l'altro ho anche cambiato l'edicolante, poi vi spiegherò meglio perché però sto cercando ancora, ad oggi, lo speciale Dylan Dog che è ufficialmente uscito una settimana fa qui nella mia zona, quindi non soltanto a Lugo ma anche nei paesi limitrofi non si è visto ho girato più edicole perché purtroppo un problema grosso della distribuzione non è soltanto ai ritardi, legato ai ritardi ma anche a dove vengono consegnate perché ormai mi sono reso conto che alcuni albi arrivano in un'edicola, non arrivano in un'altra e così via, e quindi me ne sono girate tante anche in paesi limitrofi e io ho detto è possibile che non sia arrivato questo Dylan Dog non è arrivato, non è stato distribuito nella zona di Lugo e non so se è in generale nella provincia di Ravenna quindi siamo tornati alle problematiche di luglio questo mi porta a pensare un paio di cose uno, che il distributore nuovo lavori in maniera pessima mi è stato confermato anche l'edicolante due, che comunque gli edicolanti sì che sono un po' in balia di se stessi in balia degli eventi ma comunque in qualche modo anche loro non esistono più di tanto e tre, che comunque o la Bonelli o il distributore stanno evidentemente tagliando certe pubblicazioni soprattutto in certe zone ho cambiato edicola perché a parte che mi veniva distante ne ho trovato una più vicina che sembra anche più fornita ma mi sono reso conto a luglio come in quell'edicola consegnino solamente gli albi di facile rivendita c'è Tex, il Dylan Dog mensile il Nathan Ever 400 ma tutti gli albi speciali non arrivano più incluso lo speciale di Dylan Dog sotto sopra non sa neanche cosa sia e quindi praticamente ho cambiato edicola però allo stesso tempo mi chiedo va bene che le vendite saranno quelle che sono tutto quello che è però veramente uno speciale Dylan Dog in una zona con 50-60 mila persone di bacino non se ne venda neanche una copia a meno che arriverà fra una settimana come è successo all'amico Fabio di Low Profile a Rimini che il dumpier del mese sia stato distribuito solo nella sua provincia comunque ci sono in ricardo ora mi chiedo al di là di tutte le problematiche distribuzione edicole lo sappiamo benissimo sappiamo benissimo che sono fumetti non è niente di fondamentale ma questo è un canale di fumetti quindi io parlo di questo ha senso andare avanti così? beh non distribuissero più invece di distribuire a macchie lopardo quello che capita quando vogliono è dove vogliono comunque mi sono prolungato abbastanza vi farò sapere se questo fantomatico speciale riuscirò a trovarlo dopo la sigla vi parlerò di Sottosopra Sottosopra numero 3 con questo albo si conclude la breve vita in edicola di questa miniserie che è stata edita dalla Bonelli già 4-5 anni fa attraverso il circuito delle librerie e fumetterie ma che la casa editrice ha deciso di proporre anche in formato più economico più semplice per un pubblico differente vale a dire quello è ridicola ho acquistato con grande convinzione e con grande interesse questo piccolo questo piccolo racconto e che appunto si va a concludere in questo mese di settembre l'avventura è iniziata con il numero 1 che porta la data agosto 2024 ma in realtà è uscito a fine luglio inghiottiti dal cielo è proseguito il mese scorso col numero 2 un mondo capovolto e si conclude appunto adesso con questo numero 3 il volto del nemico vi allegherò sotto questo video anche le recensioni delle due puntate precedenti per farvi un'idea più generale qui vi dirò un paio di cose su questo terzo albo e poi farò delle considerazioni un po' più larghe sull'intera pubblicazione ma non vi spoilerò il finale perché non mi sembra corretto iniziamo dalla copertina che è molto evocativa sembra quasi reale anche la prima in qualche modo ma questa terza secondo me anche di più perché se non fosse per la presenza di due protagonisti in alto Alessandro e Giorgia che appunto si vede che sono dei personaggi da fumetto sembra quasi essere una copertina di un libro di fantascienza oppure di un libro di scienza si vede il pianeta Terra nell'orizzonte spuntare il sole e appunto questi due ragazzini abbracciati e proiettati nell'infinito per quanto riguarda i crediti sono gli stessi degli albi precedenti serie creata Luca Enoch a cure Luca Barbieri che si è occupato anche di scrivere in tutti e tre gli albi diciamo l'editoriale di presentazione e di riepilogo di dove eravamo rimasti l'albo si intitola appunto Il volto del nemico opera di Enoch illustrazioni copertina e disegni Riccardo Crosa quindi un plauso sicuramente al copertinista la colorazione di Paolo Francescutto che in questo caso è da solo ma nel numero precedente si è fatto aiutare Alessandra Baccaglini mentre nel primo ha fatto da solo quindi diciamo l'eccezione c'è stato nel secondo albo progetto grafico e logo design Matteo Brembilla impaginazione attentografico Fabio Salvitto e Letting Maria San Felice perché ho richiamato ancora una volta tutti i crediti non per perdere tempo ma perché un'opera così interessante con questo formato molto fuori dai canoni Bonelli quindi sia nelle tavole impaginazioni nel disegno e nella colorazione meritava appunto una sottolineatura ancora una volta visto che siamo nel finale brevemente la storia di cosa parla parla di una misteriosa città poi in realtà sarebbe tutto il mondo ma il fatto è raccontato in una in una città che potremmo identificare penso come New York in cui improvvisamente la gravità funziona al contrario cioè invece di spingere gli oggetti verso il basso di spingere verso l'alto però in realtà non tanto gli oggetti ma le persone e gli animali comunque gli esseri animati che vengono sparati verso l'orizzonte e quindi tutto il mondo viene visto sotto sopra e inoltre sparirà anche l'acqua degli oceani questa è una cosa importante che viene ricordata all'inizio ma che viene enfatizzata soprattutto in questo terzo albo i protagonisti sono questi due ragazzi adolescenti che si conoscono per puro caso hanno entrambi vissuto una tragedia perché hanno perso i genitori insomma questo viene raccontato durante tutta la saga soprattutto nel secondo albo che è più tra virgolette riempitivo che approfondisce le cose e avranno a che fare sia con una misteriosa setta che sostiene che sia Dio che abbia voluto punire gli uomini ma questa setta invece di convertire attraverso le preghiere costringe la gente a lanciarsi nel vuoto perché quello che scoprono i due ragazzi è che se ci si appesantisce il corpo con dei pesi si riesce a vivere senza essere sparati all'orizzonte altrimenti si fa questa fine e poi c'è anche l'esercito che interviene perché vorrebbe in qualche modo sconfiggere questa setta e prendere i padronisti del mondo in qualche modo riportarlo ricostituito e improvvisamente pare apparire una specie di angelo in questo terzo albo si spiegherà in fondo cosa sia successo quindi chi sia responsabile o chi siano i responsabili di questa situazione e soprattutto si capirà se ci sarà in qualche modo rimedio oppure se la situazione dovrà rimanere questa non vi voglio dire altro perché essendo un albo comunque di 64 pagine se approfondissi spiegassi troppe cose finirei per svelarvi anche il finale diciamo che facciamo un po' di considerazioni allora l'idea di base mi è piaciuta perché comunque allora premettendo che me Luca Enoch come autore intriga lo seguo da molti anni su Lex Weaver ma anche su altre testate che ha fatto Lilith non Gea perché non ce l'ho ma l'ho letto si occupa anche di Dragonero che però non seguo perché non mi piace il fantasy comunque in generale anche Sprylitz è un autore un po' particolare che ha una una visione più vicina alla sensibilità orientale in qualche modo manga infatti non a caso anche i stessi disegni anche questo terzo albo si vedono sono moderni sicuramente fuori dallo schema bonelliano e anche i ragazzi vengono rappresentati in maniera più simile all'oriente c'è qualche scena di nudo ma questo è tipico anche di Luca Enoch ma per esempio qui si vedono che hanno delle proporzioni del corpo molto più un po' perché sono dei ragazzini adolescenti ma comunque più tendenti a una visione orientale diciamo c'è qualche tavola in cui si nota in maniera particolare e quindi sicuramente ho apprezzato questo aspetto moderno che la Bonelli ha voluto diciamo introdurre rischiando facendo una scommessa che va al di là della diciamo dell'ordine costituito bonelliano quando si dice che appunto la Bonelli non investa e ho apprezzato molto il fatto che abbiano deciso di portarlo anche in edicola perché so che la Bonelli attraverso il circuito d'Ace ma non solo porta tanti tante opere interessanti ma in libreria a me non piacciono i cartonati occupano spazio sono troppo grossi e costano un formato bonellide come questo anche la 64 pagine sicuramente lo gradirei molto di più so seguendo anche il confine che non so se avrà mai fine però anche quello mi intrigherebbe che arrivassi in edicolo un giorno quindi sicuramente ho apprezzato molto questa idea il disegno diverso dal solito ecco qui si vede come un po' quello che volevo dire io con le proporzioni scusate il disegno diverso dal solito l'ho gradito perché comunque ci sta una bella boccata d'ossigeno rispetto allo stile sia nei disegni che nella griglia classica bonelliana e anche il colore che non è una cosa che amo particolarmente però in una miniserie comunque che è nata con questo intento con queste colorazioni sicuramente più moderne più intense mi ha molto convinto le copertine sono interessanti e la storia di per sé comunque mi ha colpito però sul finale e questo è quello che un po' mi avevano detto senza spoilerarmi chi l'aveva letto lascia non dico che deluda però lascia secondo me un po' troppe cose così o aperte perché magari si voleva provare a finire non è detto che ci possa essere una seconda serie questa è una mia una seconda stagione questa è una mia considerazione o più semplicemente perché si è dovuto chiudere in maniera sbrigativa perché le pagine erano terminate c'è una scena in cui sembra quasi che vogliono spiegare per bene cosa sia successo ma poi vengono interrotti se leggerete l'albo capirete a cosa cosa mi riferisco quindi nel complesso è un'opera che ho apprezzato perché è una bella boccata d'ossigeno rispetto allo standard classico monelliano che mi piace sia chiaro questo che voglio dire però qualche digressione qualcosa di un po' diverso ci può stare quindi per tutti i motivi che vi ho detto al netto di questo finale che è un po' troppo sbrigativo quasi incompleto a un certo punto di vista mi sento di promuovere questa iniziativa per l'iniziativa in sé sono alla fine ho speso meno di 15 euro è una piccola un piccolo romanzo a fumetti in qualche modo quindi assolutamente non mi sento di bocciare l'idea o di o di rimpiangere il fatto che abbia speso 15 euro poteva finire meglio quello sì sicuramente però ne ho apprezzato l'iniziativa quindi mi sento di fare un ploso alla Bonelli in questo caso e gli autori in generale sicuramente se l'avessi comprato in fumetteria o in libreria spendendo 70 euro per esempio già mi avrebbe dato più fastidio dici vabbè che le tavole sarebbero state più grandi ci sarebbero stati dei contenuti extra dei redazionali altre cose ma a me non interessano più di tanto poi anche qua secondo me rendono egregiamente i disegni anche con la colorazione molto molto ben fatta nonostante ci sia un semplice formato Bonelli come dimensioni quindi secondo me è stato comunque un'ottima prova quindi detto questo complimenti agli autori complimenti alla Bonelli perché ha voluto investire ha voluto rischiare un piccolo esperimento però è già qualcosa io non sono un un conservatore nel senso che tutto deve rimanere com'è ci sta che ci sia qualche cambiamento anche nelle testate classiche ovviamente sempre con coerenza e sempre rispettando certi canoni però questo non vuol dire che non si possa provare a investire su altre cose si è parlato delle miniserie Bonelli degli anni 2000 che io ho apprezzato molto ma quelle sono molto classiche bonelliane questo già è un discorso che potrebbe attirare anche altre fasce di pubblico quindi perché non continuare su questa strada imboccando nuovi nuovi percorsi con sperimentazioni simili ripeto 15 euro finale insomma però sono contento di aver acquistato questo sottosopra e se mi chiedetelo di comprarlo io vi dico compratelo perché comunque al netto di tutto secondo me ne vale lo stesso la pena ci vediamo col prossimo video io Grazie a tutti.